Ho trascorso otto mesi in una comunità di preti nei pressi di Meggiugori, in Albania ho anche commesso dei reati. Così Davide Pecorelli, imprenditore 45 anni di Selcilama, con molti legami con la provincia di Arezzo, ha raccontato la sua storia che senza dubbio ha dell'incredibile agli inquirenti. L'uomo infatti per nove mesi ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Scomparso lo scorso gennaio in Albania e dato per ucciso, è stato ritrovato lo scorso venerdì alla deriva su un gommone nei pressi di Livorno. Cercavo l'isola di Monte Cristo per recuperare il tesoro, avrebbe raccontato ai magistrati di Perugia che nei mesi scorsi avevano aperto un fascicolo per omicidio volontario e traffico di droga. Pecorelli era stato convocato in qualità di persona informata sui fatti, un atto dovuto, visto che la compagna aveva asporto denuncia per la sua scomparsa. Con sé il giorno del ritrovamento aveva una mappa, un piccone ed una vanga, probabilmente per cercare il presunto tesoro. Addirittura aveva già preso in affitto anche un garage dove avrebbe custodito i preziosi oggetti. Moltissimi ancora restano i punti da chiarire, dall'auto presa a noleggio e trovata bruciata al confine con il Kosovo, ai frammenti ossei rinvenuti nella vettura in realtà mai attribuiti all'imprenditore. Il 45enne magistrati avrebbe infine raccontato di aver raggiunto la Toscana a bordo di un autobus di pellegrini. Sullo sfondo della vicenda ci sarebbero anche delle difficoltà finanziarie.